Contro il Pescara non ci sarà a causa dell'infortunio che lo tiene ai box da qualche tempo, ma Marco Manetta resta particolarmente vigile sull'evolversi della situazione in casa Taranto e il vice capitano Rosso Blu, ospite via Skype nella trasmissione in onda su Antenna Sud Extra, parte proprio dal match perso a Crotone nonostante l'ottima prestazione. Secondo me meritavamo ovviamente il pareggio, ha sempre tenuto la partita in bilico e ha provato più volte a fare gol. Una volta il portiere loro, Branduani, ha fatto una parata incredibile. Poi mi ricorda che lui stesso fece anche una parata simile, se non ancora più quella. Poi traccia un bilancio di quella che è stata finora la sua stagione e anche quella del Taranto. Secondo me il bilancio adesso è molto positivo, sicuramente mancano tre partite alla fine, quindi è un po' prematuro, però per il momento se mi tieni un bilancio momentaneo è un bilancio molto positivo perché comunque stai lì, fai comunque ballini tra la zona playoff e la zona playout.